E' tutto pronto, da domani le spoglie di padre Salvatore Greco riposeranno nella chiesa da lui realizzata, che ancora oggi a Biancavilla viene chiamata a chiesa di pace a Grecu. Questa mattina è stata effettuata l'estumulazione della cassa mortuaria dalla tomba di famiglia, che giaceva lì dal 2004, anno della sua scomparsa. La vecchia cassa, ormai corrosa dal passare degli anni, è stata sostituita con una nuova, pronta per essere tumulata nella chiesa parrocchiale Sacratissimo Cuore di Gesù, dove ieri sera intanto si è tenuta una veglia di preghiera con l'adorazione eucaristica preseduta da Don Salvatore Cubito, pro-rettore del seminario interdiocesano di Catania e di Nicosia, con la partecipazione dei seminaristi e dei gruppi giovanili del vicariato, presente anche il clero locale. Domani il tanto atteso giorno, storico per la comunità parrocchiale, ma anche per l'intera comunità biancavillese. Sarà l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, a presiedere la Santa Messa e il rito di tumulazione che avverrà nella navata destra dedicata al Sacratissimo Cuore di Gesù. Alle 17 accoglieremo la salma davanti all'altare del Sacro Cuore in Viettennè, da lì ci muoveremo in corteo. In questo corteo ho voluto interessare proprio tutti i giovani della prima ora, giovani che adesso sono poco più che 60 o 70 anni, coloro che hanno accompagnato come ragazzi della prima ora Padre Greco nel suo ministero qui nella parrocchia. Poi la salma rimarrà qui una buona mezz'ora. Alle 18.30 ci sarà l'arcivescovo che presiederà questa celebrazione eucaristica. Ripeto, non avrà nessun tocco funerale, già è stato celebrato, ma un tocco vocazionale e di ringraziamento, dove ringrazieremo il Signore per il dono dei sacerdoti e in particolare di questa figura. Dopo la messa in corteo accompagneremo qui il feretro, dove poi si procederà alla sepoltura. Sarà allocato anche il busto in bronzo che raffigura il volto del compiando sacerdote biancavillese Don Salvatore Greco, donato dall'amministrazione comunale. Vorrei proprio ringraziare l'amministrazione comunale con a capo il Sindaco Antonio Buonanno, che hanno voluto donare alla Chiesa ma alla comunità un busto in bronzo che proprio ripresenta Padre Greco. Sarà svelato alla fine della celebrazione eucaristica e poi saranno completati i lavori, le manovre della tumulazione, sarà messo proprio lì come indicatore della salma che riposa. E oggi, proprio nei minuti in cui si è proceduto alla estumulazione della salma di Padre Greco, nel cielo è apparsa una grande croce, formatasi dalle scie lasciate da due aerei. Forse un segno?